Buongiorno, sono l'insegnante Paola Ferri della Scuola Primaria Sapienza dell'Istituto Comprensivo Moventi di Fermo. Quest'anno abbiamo partecipato al concorso Il Sole in classe, con la classe terza, scrivendo una poesia dal titolo Il Vento. A scuola abbiamo un progetto molto interessante sul bar da seta e ti invitiamo a votare per la nostra poesia, così, con il premio, potremo acquistare il materiale per arrestire un museo. Salve a tutti, buongiorno, siamo qui a sostenere i progetti e le poesie redatte dalla Scuola Elementare La Sapienza, facendo parte dell'Istituto Comprensivo Ugo Betti di Fermo, che ha partecipato con circa, con più di 800 alunni al progetto Sole in classe e quindi votate, votate, votate. Ciao da Samuela Renoglio e Barbara Ferri.